Quarta edizione di Citemos, l'emergenza sanitaria non ha frenato ma anzi ha motivato di più gli organizzatori, è così? È così per due motivi, il primo è che abbiamo voluto dare un segno di ritorno alla normalità e di condivisione anche con ciò che stiamo vivendo, per cui questo è un momento di approfondimento importante ma a che fare anche proprio con l'emergenza sanitaria perché ci impone di rivedere tutti quelli che sono i criteri non solo della mobilità ma dello sviluppo sostenibile ma anche di quelli che sono i criteri della Smart City in una nuova chiave ma soprattutto con una grande accelerazione per quanto riguarda per esempio la digitalizzazione. Ecco, se l'emergenza Covid ha accelerato l'adozione di nuove soluzioni, soluzioni per la comunicazione che contribuiscono anche ad una mobilità sostenibile, questo ha messo in luce anche ulteriormente carenze infrastrutturali. Io non oso pensare cosa sarebbe stato il lockdown senza internet, internet ci ha dato la possibilità di rimanere collegati con il mondo, non solo dal punto di vista del business ma anche dal punto di vista delle relazioni umane, delle relazioni sociali, anche all'interno delle famiglie che non si potevano muovere e che hanno potuto continuare a rimanere uniti. Ma oggi noi abbiamo un grande problema che è quello di una cattiva infrastrutturazione tecnologica su questo territorio, lo stiamo chiedendo ormai da anni, non abbiamo la banda larga o ultra larga ma in alcuni territori anche la difficoltà a collegarci alla DSL, per cui bisogna accelerare anche come decisore pubblico nel verso di una infrastrutturazione che deve essere efficace.